Il lupo è diffuso in una parte dell'Europa, in quasi tutta l'Asia e nel Nord America, mentre è sconosciuto in Africa, in Sud America e in Australia. Dunque l'estensione geografica è nottevole. Ma l'area di diffusione continua a ridursi. Ci sono ancora alcuni branchi di lupi in Italia, nelle apennine centrali e nella Sierra Nevada spagnola. Il lupo si adatta a tutti gli abitati, montagne, pianure, foresti, steppe, regioni arido e paludose. Perché non siano troppo popolati? I lupi sono animali sociali, si raggruppano per formare delle famiglie, ossia dei branchi più numerosi, necessari per cacciare e sopravvivere. Negli stati americani più assurdi, i branchi variano tra i 4 e gli 8 individui, 20 nel parco di Yellowstone e talvolta 30 in Canada. In autunno i cuccioli sono in grado di seguire gli adulti a caccia. Gli urlulati notturni sono un invito a raggiungere il branco, a raggrupparsi. Più abbondante è la preda, più numeroso è il branco, il cui comportamento è regolato da particolari norme sociali e da una rigida gerarchia. I rituali posturali, che esprimono sottomissione, minaccia o sfida, rivelano la posizione di ogni individuo e entrano tali gerarchia. Ogni branco è costituito da una coppia dominante, i lupi, alfa, e i due giovani lupi nati in primavera e a loro sottomessi. La coppia alfa decide quando e dove cacciare. Nella stagione degli amori, i lupi possono impegnarsi in duelli cerimoniali, ma senza mai uccidersi. Il vinto si sottomette offrendo la gola al vincitore, che non lo finisce mai. Tutti gli etologi, sfattando la leggenda, riconoscono che il lupo è più scaltro che la volpe, è particolarmente intelligente, cauto e molto paziente. Era settembre, strana mescolanza di energia e nostalgia, progetto per la ripresa e malinconia, per la fine dell'estate. Una più, una meno. Addio. di nuovo a studiare e lavorare. Tuttavia, dopo Mosca, ero in subbuglia. mia sillaba, l'idea di andare per la mia strada. Ascoltavo, sì, ma disfattamento. Guardavo, ma nell'edificio c'era sempre quella grande crepa che faceva tremare le fondamenta del mio mondo. Avevo quasi diciassette anni, non ero seria, parola di ribauda, mai capito bene cosa voleva dire. Di me si diceva che ero bizzarra, stravagante. Sì, può darsi. E allora? Più che altro ero deciso a trovare nella vita e nella musica la mia strada. Sapevo di aver sempre potuto contare su insegnamenti eccellenti che mi rimettevano in cariggiata, non appena mi smarivo in un'interpretazione. Non che contestassi la loro guida, ma volevo, con tutte le mie forze, mettermi a studiare un'opera intera, affrontarla come se fosse nuova, e non una pappa bella e pronta, e riuscire a esprimere me stessa suonandola. Volevo mettere in pratica quel che sapevo. Avere con la musica un rapporto esclusivo, allestire un piccolo laboratorio personale di note e di intuizioni, per fare i miei esperimenti, e finalmente scoprire come sapessi dialogare con le grandi opere. Per finire in gloria agli studi, avrei potuto aspettare la fine del terzo ciclo e la consacrazione di un concorso internazionale. Ma avevo fretta. Cominciavo ad avere una vera passione per la linea retta. per uno stile e un linguaggio di reti. Aspettare? Perché aspettare? Per inaridire al desiderio. Una parte di me aveva calzata le stivali dalle sette leghe. Ah, slanciarsi, aprire le ali, prendere il volo, anche se benché stessi imparando molto. Avevo ancora molto da imparare. Il secondo anno era stato assai difficile. Certo, lasciare le cose come stavano aveva i suoi vantaggi. Non dovevo spremermi le meningi, tanto che non avrei dovuto pensare con la mia testa. Bastava studiare le partiture così come erano. Se si presentava uno scoglio, mi dicevano come evitarlo. Le difficoltà erano assaggiamente graduali. Avanzavo su un terreno già coltivato per me, su un sentiero con spazio di petali di rose, nessuna sassolino nella scarpa, fiancheggiato da siepi, potate con forbicine da unghie. Un inquadramento puntiglioso, meticoloso, opprimente. Ed ecco che lui, il tanto amato, disponeva di quella parte di me che gli si era data. Aveva dei progetti, voleva incatenarmi a quel posto, alla sua vita, alla routine. Compresi che dovevo lasciarlo, che dovevo riprendermi, a riunirmi, a ricompormi. E compresi che sarei stata capace di farlo. Abbiamo fede nel veleno. Sappiamo dare intera la nostra vita. Ogni giorno. Lascio il conservatorio. Andiamolo un po'. I musicisti studiano con i loro insegnanti, almeno fino a 25 anni, a volte anche di più. E tu? Tu credi che da sola, ad appena 17 anni, acerba come sei? Con meno di 10 anni di pianoforte? Che cosa diventerai? Perderai tutto. Strani argomenti. Conosco dei musicisti che vivono con questa angoscia. E se mi succedesse qualcosa? Se non potessi più suonare? Se perdessi un braccio? Cosa farai? Io so esattamente cosa farai. Guadagnerai di meno? Guadagnare di meno, scusate. Che importa se mi diverto? Se conservo il mio stile di vita? Non mi serve molto. Bella casa, piscina, belli oggetti. Bella macchina. Tutte cose che non mi interessano. E poi di cosa dovrei aver paura? Di vivere. Aver sempre paura. Ripiegarsi su se stessa. Disporre di una rete di sicurezza. Eppure ci vorremmo uno stimolo ben più forte del timore per cambiare il mondo, per migliorarlo. La bellezza, l'amore e anche il rischio. Come spiegarlo a chi con le migliori intenzioni? Mi esortava la prudenza. Sii saggia, paziente, sottomessa. Un giorno qualcuno mi disse, se non lo capisci subito non lo capirai mai. Applausi. Le cose davvero importanti non si imparano. La cultura, la conoscenza, lo studio. Chiediscono ma non rivelano. Tutto era ancora da vivere. Dietro la porta ancora. Bastava spingere, superare la soglia e chiuderla dietro di sé. Al conservatorio la mia principale rimindicazione, non posso dimenticarmene perché capitava persino almeno di avere l'impressione di ripetere sempre le stesse cose, riguardava il repertorio. Io volevo suonare Brahms e loro tentavano di suadermi. No, non fa per te, suoni molto meglio Chopin. Perché non approfondisce lo studio delle sue opere? Sai, con Brahms ci vuole un bel po' di pazienza. Un bel po' di esperienza, scusate. Ma era più forte di me. Reducevo le sue partiture, la sua biografia, le sue annotazioni, i saggi e i commenti. In Brahms non c'era niente che mi fosse ignoto e strano. Chiudevo gli occhi e tentavo di capire che cosa mi mancasse, che cosa li inducesse a sconsigliarmi col compositore. Non trovavo niente. Releggevo un concerto e tornavo all'attrazione, profonda, incorreggibile. Tornavo a quel senso di familiarità. Mi circondavo di cose sue, libri sulla sua vita e un volume delle sue opere sul pianoforte. Mi capitava di guardarlo a lungo e poi di allontanarmi lentamente senza distogliere lo sguardo e contemplare, leggio, lo sgabbare, la tastiera. Quella semplice prospettiva mi dava certezza, mi rendeva felice. Non appena senti suonare un'opera di Brahms o uno dei suoi pezzi decifrati da un allievo del conservatorio, ebbe la sensazione di riconoscerlo. È molto strano sentire che qualcosa è stato scritto proprio per te e che corrisponde esattamente al variare delle tue emozioni. Mi sembravo di riscoprire quelle opere che non avevo mai sentito né suonato, un incredibile senso di familiarità, qualcosa che è vicino a te, fatto per te, che non mi lasciamo mai. Credo di suonare abbastanza bene Chopin, ma con lui non sono mai arrivato a tale intimità. Brahms mi si impadroni subito e per sempre di una parte di me, mentre a quel tempo altri compositori mi erano del tutto indifferenti. Chissà le cose potrebbero cambiare, ma il repertorio romantico mi è sempre incantato. A 16 anni mi attraevo come un'amante. Spesso mi sento dire che un artista deve interpretare di tutto, suonare di tutto. Strana idea, siamo forse delle macchine? Come si può immaginare che un vero artista, in un certo momento della sua vita, abbia da dire altrettanto ammalzato a Debussy, a Bach e a Chopin? Come si può credere che mentre è tutto appreso dal mondo di Brahms, possa aderire a un mondo a lui del tutto estraneo? No, non posso crederci. A meno che non manchi qualcosa al nocciologhino inalterabile della sua personalità.